Respira nuovi spazi e è questo lo slogan della nuova edizione di Aria, la Casa Consapevole. Spazi non solo fisici ma anche di pensiero, un invito alla cittadinanza fanese ad utilizzare alcune aree urbane come quella del Pincio e quella di Via delle Rimembranze che ospiteranno la manifestazione dal 15 al 17 settembre prossimi. Quest'anno rilanciamo, l'offerta formativa e l'offerta degli espositori si amplia notevolmente col fatto che utilizzeremo Via delle Rimembranze avremo molti più spazi, quasi raddoppiamo. La stessa cosa per l'offerta formativa, cercheremo di avere due sale, una dedicata al pubblico e una dedicata ai professionisti. Non più un esperimento dunque ma una realtà in continua crescita che ha come punto saldo non solo gli spazi abitativi ma soprattutto chi li vive. Ci piace in realtà sempre sperimentare, provare cose nuove, andare avanti, non ci fermiamo mai. Le novità sono che ci allarghiamo, abbiamo molti più spazi e molti più spazi quindi destinati alle aziende. In più una grossa novità è quella dedicata all'area formativa. Aria vuole essere un aiuto per le persone, per i cittadini che non sono degli addetti ai lavori a orientarsi meglio nel mondo della casa. Abbiamo anche ospiti a livello nazionale quindi quest'anno facciamo fuoco e fiamme.